Taglio del nastro a Castel di Sangro presso il Museo dell'Aufidenate per una nuova ala dedicata all'arte sacra e religiosa nella quale convergono frammenti di sculture tardorinascimentali, barocche, settecentine della congrega di orazione e morte e gli ultimi reperti arrivati grazie ad una donazione di un cittadino. L'idea è venuta quando un concittadino di Castel di Sangro, Gavin Codo, ha deciso di donare alcune opere alla città di Castel di Sangro, precisamente al Museo Civico dell'Aufidenate e quindi abbiamo raccolto anche altri elementi che erano presenti all'interno del museo, delle sculture tardorinascimentali e barocche, delle pergamene, della confraternita di orazione e morte che le ha conservate per tanti anni e abbiamo deciso di inserirle all'interno di una sala. Questo sicuramente anche per far emergere il rinascimento abruzzese che molte volte è poco conosciuto. Ricordiamo ad esempio Saturnino Gatti oppure Nicola da Guardia Grele che ha lavorato anche qui a Castel di Sangro e le sue opere sono esposte oggi al Museo dell'Opera del Duomo di Firenze. L'obiettivo è quello di fornire attraverso i reperti una maggiore conoscenza storica del territorio. È un museo bellissimo, aggiungere appunto questa stanza è solo il fiore all'occhiello del museo e il nostro caro direttore comunque per fortuna sta facendo tante cose, sta sistemando le altre stanze insomma l'apertura adesso comunque sarà sicuramente migliore di quanto lo è stato in passato perché davvero andava curato, andava sistemato e per fortuna abbiamo trovato una persona di grande volontà che comunque se ne sta occupando. Le peculiarità di questo museo? Le peculiarità di questo museo? Penso già la sala stessa, questa sala stessa per dirle, appunto è una peculiarità. Tante cose sono di solito anche trascurate, ecco, nelle chiese, negli altri musei eccetera e noi invece abbiamo avuto questa, appunto, questa idea, questa iniziativa comunque di curarle, di sistemarle e aprirle comunque alla cittadinanza. Risulta vincente la musealizzazione dell'ex convento della Maddalena unita agli interventi di conservazione, ricerca, documentazione dei nuovi allestimenti dei servizi di gestione, amministrazione e promozione. Ma intanto abbiamo rivolto i ringraziamenti alla famiglia Ciccarelli che ci ha donato queste opere di arte sacra che in questo luogo ovviamente sono più che pertinenti e adeguatamente esposte non fosse altro che questo è un ex convento francescano quindi già un luogo che ha avuto la sua sacralità nel passato e parliamo ovviamente di un allestimento che è stato curato dal direttore del museo Mario Reinaldi con la collaborazione dall'Archeoclub che ha reso anche più articolata e più completa diciamo le opere esposte in questo museo quindi insomma oggi siamo particolarmente soddisfatti e quindi quella che sarà la stagione estiva che ovviamente è il periodo di maggior afflusso presso questa struttura sarà ancora più adeguata per attrarre turisti.